Ci sono stati, come potete vedere, due piccoli incidenti a distanza di breve tempo l'uno dall'altro. Uno ha perso Calino, una corriera del trasporto urbano è uscita fuori di strada e nelle vicinanze di Val d'Ario un altro fogoncino, un motocarro, anche quello è andato fuori di strada. Ecco, facciamo notare che in entrambi i casi, in entrambi gli incidenti, ci sono due pattuglie della polizia locale. Questo a farvi ricordare che quando qualcuno si lamenta, ma la polizia locale non c'è, non si trova, sono assolutamente sotto organico e poi, come potete vedere, basta anche un incidente di lieve entità, come sono stati questi fortunatamente, a tenere impegnati due pattuglie.